In una lettera scritta in data 9 aprile del 1918 a Maria Gargani, una sua figlia spirituale, Padre Pio scrive quanto segue Oh, quanto è amaro il pensiero di dover rendere conto a Dio, anche dei peccati forse fatti commettere ad altri, per una non vigile direzione, oppure del bene non promosso nelle anime per mia ignoranza e Dio non voglia per mia negligenza. È vero che mi sono sempre raccomandato a Dio in questo importantissimo negozio, ma chi mi assicura se ho fatto quanto era il mio dovere di fare? Mio Dio, figliola mia, l'è questa una spina che, stando sempre lì, fissa in fondo all'anima, me la sento lacerare assiduamente. De, figliola, prega molto per il disimpegno fruttuoso del mio mistero e dimmi qualcosa di rassicurante se il buon Dio te lo permetterà. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.